Buongiorno, benvenuti a tutti sulla puntata di CipperTV del 20 agosto 2018. Siamo a Pescara, questo è CrossFit Pescara, io sono Alessandro Gapponi. Iniziamo con un warm-up leggero per un'attivazione, 500 metri raw, 500 metri o raw o run o bike. 3 round non 4 time di 5 jump, 5 salti in avanti, 10 squat a piedi uniti e 5 good morning con 10 metri di camminata dell'orso. Iniziamo la prima parte di workout, una parte di forza, costruiamo 10 RM di PowerClean. Fatti i 10 RM di PowerClean passiamo a 3 round 4 time con 400 metri run, 21 PowerClean e 18 pistol squat alternati con un kettlebell. Tre varianti di peso, una beginner dove performiamo con 30 kg per l'uomo i PowerClean e 20 kg la donna, mentre i pistol squat li scaliamo a air squat, un livello medio dove lavoriamo 40 kg per l'uomo e 25 kg per la donna. I kg del kettlebell invece diventano 16 per lui e 12 per lei. Manteniamo lo stesso chilo 16-12 in un livello avanzato e invece di PowerClean lavoriamo con 50 kg per l'uomo e 35 per la donna. Divertitevi, mi raccomando, tenete un ritmo alto e costante e una buona intensità.